buongiorno sure e buongiorno sure benvenuti in questo nuovo video oggi video intervista sono andata intervistare una persona famosissima qui su youtube un cantante d'eccezione ma lo conosceremo insieme andiamo a vedere chi è innanzitutto benvenuto ci dica il suo nome cioè cominciamo bene ma massimo c'è scritto c'è scritto massimo c'è scritto sul profilo massimo cognome c'è scritto pure quello ferroli con l'accento sulla e ferroli è così semplice signor massimo quanti anni ha non posso dirtelo dovrei ucciderti poi altrimenti sesso mario bianchi ma qui c'è scritto sesso amici ascoltatori ma mario bianchi ma avete sbagliato ma che combinate ma si vede che è una femmina no mario bianchi vabbè andiamo avanti va la 1 la 2 o la 3 amici ascoltatori vabbè vedo che è bravissimo anche imitare il grandissimo il grandissimo mai buongiorno ma veniamo a noi che lavoro fa che lavoro faccio e allora no dovrei ucciderti se te lo dico dovrei uccidere segno ziodiacale scorpione segno di fuoco segno caliente segno vendicativo e superlativo fantastico intelligente signor ferroli lei crede in dio è un'entità superiore sicuramente c'è non è un caso che ci si trovi qui noi umani in questo pianeta così meraviglioso che sembra costruito proprio per l'essere umano quindi credo in un'entità superiore che ci abbia creati e ci abbia portati qui forse non è lo stesso dio di cui si parla nel mondo è un dio diverso non lo so si arrabbia spesso mi arrabbio spesso no però quando mi arrabbio mi arrabbio ma incazzo ma incazzo ma incazzo ho detto mai incazzo cos'è che la fa arrabbiare una cosa che mi fa arrabbiare mi fa andare fuori di testa e vedere la gente che smanetta sul telefono mentre guida guidare in genere già un fatto che mi irrita perché ti mancano la precedenza perché vanno 20 all'ora mentre non c'è nessuno davanti ma vedere quello che oltre a queste cose smanetta sul telefono cioè ragazzi deve rendersi conto questa persona che può una potenziale mina a un black out sta gente qui mentre guida quindi potrebbe essere potrebbe fare dei disastri non se ne rende conto vuoi telefonare ok affianchi ti fermi telefoni scrivi fai quello che vuoi ma non mettere in gioco la vita degli altri sono qui su youtube perché voglio condividere la cosa che so fare meglio cantare frequenta altri social network no per scelta o soltanto youtube canta per professione no non canto di professione anche se mi piacerebbe farlo ma non c'è il tempo per fare tutte e due le cose lavorare fuori e fare il cantante le guadagna con la sua musica beh sì qualcosina guadagno però non è sicuramente abbastanza per poter vivere senza fare qualcos'altro la musica oggi come oggi non ti da da vivere in maniera sufficiente per poter vivere degnamente ha studiato canto? certo io credo che senza aver studiato da nessuna parte puoi andare in qualunque cosa di qualunque cosa si stia parlando studiare è sempre una formazione senza lo studi non vai da nessuna parte in niente si arrabbia spesso? beh no non mi arrabbio spesso però quando me incazzo me incazzo me incazzo me incazzo ho detto me incazzo per caso l'ho già detto lei è introverso o estroverso? estroverso per tutta la vita quali sono le cose che la fanno più arrabbiare? beh non tantissime quella che ho detto prima quella della macchina si reputa una persona buona? si sono una persona molto buona ed altruista è sposato? si ha figli? si uno masca ama sua moglie? da impazzire padre ha mai tradito? assolutamente no anzi ha mai avuto un colpo di testa? eh sì mi è capitato una volta devo dirti con chi? la mia tartaruga Caterina però una sola volta è stata una non è stato neanche un rapporto impegnativo insomma un bacetto eh canente di che e sua moglie lo sa? certo che lo sa lo sa lo sa lo sa com'è finita? Caterina un saluto a tutti i nostri amici di youtube che conoscono il nostro segreto è geloso? la gelosia è alla base dell'amore se non c'è la gelosia non c'è amore secondo me cos'è la gelosia secondo lei? la gelosia è l'amore stesso cosa ne pensa di questa pandemia? pandemia? non sono negazionista nel senso che non nego l'esistenza del virus nego l'esistenza del virus per come mi è stato trasmesso non voglio dilungarmi troppo perché aprirei una polemica e scatenerei ovviamente delle problematiche di chi non la pensa come me però dico a chi è ipocondriaco e terrorizzato dai media che non dicono tutta la verità che la vostra ipocondria va ad incidere e a ostacolare la mia libertà questo è vero e sono d'accordo con lei ma passiamo alla prossima domanda si reputa una persona intelligente? sì cioè nella media ecco una persona di media intelligenza né più né meno si reputa un bell'uomo? un bell'uomo anche no nella media credo però piaccio non so perché ma piaccio alle donne anche agli uomini a qualcuno non è una bella cosa si reputa una persona sensibile? sì sono una persona molto sensibile mi commuovo con un nulla e mi è capitato di piangere? a volte mi capita anche di piangere sì ma per eventi per cose che mi toccano l'ultima volta che ricordo di aver pianto è quando mio figlio è andato per la prima volta alle scuole superiori per la prima volta ha dovuto prendere una corriera e per la prima volta ha dovuto sbrigarsela da solo quel giorno lì ho pianto quante lacrime per le nostre prime volte dei nostri figli è lunatico? no non sono lunatico la luna me la fanno venire gli altri quando me fanno incazzare appunto come ho detto prima lei è vendicativo? beh se mi fanno incazzare parecchio sì è orgoglioso di se stesso? sì molto anche ora una domanda un po' piccante fa spesso l'amore? ma che te frega comunque sì se posso chiedere quante volte la settimana? ma che te frega di nuovo tante tante pensa a un numero di più con chi? con la mia tartaruga è ovvio Caterina? ma non aveva detto che vi avevate i dati solo un bacio? ama il suo figlio? da impazzire vive con voi? no mio figlio è grande e ora vive da solo qui vicino a noi ha la ragazza e vive con lei lavora in casa? cioè che intendi dire? se aiuto mia moglie a fare le vicende domestiche o se mi arrangio in casa? ma ti rispondo alla seconda mi arrangio bene in casa sono un perito elettronico la parte elettrica mi arrangio occhi chiusi ma mi arrangio a fare un po' di tutto dall'idraulica all'elettricità fa legna maria faccio tutto 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 pittore tutto so pure cantare lo sa che rispondendo alla seconda domanda vuol dire che la prima non la fa? è ricco? dentro sì qual è la miglior virtù? secondo lei? assolutamente l'onestà quando hai l'onestà hai tutto non c'è bisogno di altro ha altri hobby oltre al canto? sì oltre al canto ho anche altri hobby amo la fotografia amo la ripresa video amo la tecnologia in particolare la telefonia sono moderatore pure di un forum di un grande forum italiano ho una vita piuttosto piena insomma se potesse ritornerebbe indietro con gli anni? beh tornerei indietro di qualche anno sì ma più che altro per una questione fisica ciò che si acquisisce invece mentalmente parlo di saggezza è un qualcosa di rinunciabile quindi con l'avanzare dell'età è più quello che si acquisisce forse è quello che si perde crede la vita dopo la morte? beh mi viene da risponderti con una canzone di Arisa credere all'eternità è difficile basta non pensarci più e vivere la vita dopo la vita non esiste secondo me non esistono al di là dopo la vita c'è solo la morte secondo me dopo la vita c'è un'altra vita ha paura della morte? no della morte non ho paura mi piacerebbe vivere in eterno ovvio che sì mi fa paura più che la morte il saperla aver la coscienza di dover pesare poi sugli altri la mia anzianità non deve pesare sugli altri in particolare mio figlio di questo ho paura non della morte in se stessa cos'è per lei la morte? beh la morte è la fine di tutto di quello che vedo di quello che sento di quello che percepisco di tutto ma la morte da come la vedo io non è la morte di tutto quello che mi circonda ma di una sola cosa che mi circonda anche era mia moglie e mio figlio dica qualcosa a chi le vuole bene vi adoro ora dica qualcosa a chi non le vuole bene ciao è con questo è tutto io ringrazio Massimo Ferroli per la sua disponibilità oggi è anche il suo compleanno e quindi gli faccio tantissimi auguri di buon compleanno e che dove sei ora che tu sia felice per sempre io vi invito a iscrivervi al canale a seguirmi su Instagram e tutti i miei social e passate anche sul canale di Massimo che vi lascio nell'info box e noi ci vediamo alla prossima intervista ciao